Musica Questa è la ventiquattresima edizione del premio di Venanzo, l'affetto che Marco ha donato alla sua città glielo vogliamo ridare e lo vogliamo ridare perché lui in questo luogo è venuto tantissime volte a sentire Sandino Spinelli e due anni prima di morire venne con noi il 13 di luglio dal ministro Franceschini che stanzia un milione e mezzo di euro per il recupero di questo luogo importantissimo per la nostra città. I Rom provengono dall'India, la terra d'origine e attraverso la Persia, l'Armenia e l'impero bizantino sono arrivati in pratica in Europa e dall'Europa in tutto il mondo. E ovviamente portavano anche la loro musica, i Rom, i loro strumenti particolari e i loro ritmi particolari che hanno influenzato i grandi compositori. E quando questa musica è conflita nel patrimonio etrofonico dei paesi ospitanti ha generato i veri e propri stili musicali come il verbunkos, come la ciardas, come per esempio la musica Rom balcanica dell'est d'Europa e anche però il flamenco. Ricordiamo dove la componente Rom è determinante per la conservazione e la trasmissione di quest'arte sublime che è appunto il flamenco. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!